Buongiorno a tutti ragazzi da Poker Starter 3, in questo video apriamo la confezione con il bellissimo Covalion promo Non ho trovato, non ho cercato particolarmente le altre due promo che dovrebbero essere Virizion e Terrakion Dovrebbero, penso, e abbiano fatto delle confezioni anche con il loro promo, presumo proprio Quindi, allora, cerchiamo di non rovinare questa carta, che mi piace tantissimo Veramente bella E vediamo le confezioni, allora qui ci sono un sacco di fogliettini Promozioni di vario genere Ah, è Pokémon bianco 2 e nero 2, penso Ok Un cosino appiccicato che non so assolutamente cosa sia Oh, uno sticker di Charmander, che carino Carino Ecco appunto l'ho rotto, fantastico Ok Dunque Abbiamo questa espansione che dovrebbe essere Quella con Keldio, mi pare Keldio X Bond Riscrossed, mi sembra di sì Allora, poi abbiamo la Red Collection Dark Rush, vediamo se c'è qualche prima edizione Queste due sono prima edizione E anche questo è bellissimo Partiamo dalla Red Collection Sul solito fogliettino Allora Carracosta Golet Durant Oh, è sempre in mezzo la Olox Qua è Seismithod E abbiamo l'Andorus Olof Bella Passiamo a Dark Rush Vediamo se riesco a salvarla No, direi non particolarmente salvata Ok Qui non c'è nessun fogliettino Dunque The Pisty Boy Brian Non me lo ricordo Mandibas Minun E Slowbro Passiamo a questo Vediamo se riesco ad aprirlo Più o meno Qui c'è il fogliettino Mappa Città Penso Blitzel Purloin Non mi ricordo Aircross E Anfesante Penso E' veramente Imbassante Uno pensa di sapere i nomi Ma alla fine Quando ci si trova davanti Senza leggere Poi non ci si ricorda mai Niente Ultimo pacchetto per oggi Solrock Ducklet Das Cool Watchag E Swanna Mi pare Dunque Quindi Per questa apertura Solo un oro Ciao ciao ragazzi E alla prossima